Buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi. Parliamo oggi del tempo previsto nei prossimi giorni quando sembrerebbe che l'alta pressione africana si rilassi verso sud, quindi verso la Tunisia e l'Algeria. Dando a disposizione a fresche correnti atlantiche che faranno entrare la termica più 6 più 7 a 1500 metri di quota sul nord est specie sull'alto adige. Avremo inoltre l'avvicinamento di una linea precipitativa da ovest che porterà pioggia a tratti molto intense su Piemonte, Lombardia e Veneto che con il passare delle ore poi si sposteranno e si andranno a densificare sulle regioni centrali segnatamente tra Umbria, Marche e Toscana e sull'Alto Lazio e anche sulla Sardegna settentrionale con anche forti supercelle marine. Avremo anche venti rinforzi sui mari con grafiche fino a 80 km orari sulle coste toscane e laziali quindi avremo mari davvero molto mossi.